weh che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci siuderone da bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e ragazzi mamma mia ma che pace è stata la 9.20 giga e giga di file scaricati per tutti gli utenti da pc da xbox da ps4 da nintendo switch anche da mobile ragazzi un update davvero massiccio e solido che ha portato delle grandissime modifiche sia a livello ambientale come sappiamo tutti c'è stata una drastica distruzione del castello a picco polare ma sia a livello per quel che riguarda i leaks in poche parole ragazzi ho delle cose da dirvi e da farvi vedere che sono davvero superlative per i prossimi giorni di fortnite nel video di oggi parleremo ad esempio del nuovo lancia granate una nuova arma che presto sarà disponibile che molto probabilmente o affiancherà o sostituirà il classico lancia granate una delle armi storiche di fortnite presente credo dalla prima season perché nel primo fort nightmares nella season 1 c'era il lancia granate trasformato poi in un cavolo c'era il lancia granate scusate parliamo poi anche della nuova modalità a tempo limitato tornano gli zombie tutti sappiamo tutta la community di fortnite odia più o meno gli zombie perché dan fastidio quelli di epic games hanno deciso di fare una ltm dedicata molto interessante con ovviamente delle sfide e dei premi per voi ragazzi e poi primi rumors sul nuovo legends pack della season 9 ragazzi vi farò vedere se ne avrò il tempo ovviamente se no ne parliamo con calma nel video di domani prima però voglio ringraziare tutti coloro che supportano il canale iscrivendosi e utilizzando il codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per sostenermi mi raccomando non dimenticate di iscrivervi in tantissimi e soprattutto dai che oggi è l'ultimo giorno che non ce l'abbiamo attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live prima però la domandina ve la devo fare non posso non farvela ragazzi domanda secca proprio aperte tutte le vostre risposte ma che cosa è successo a picco polare ragazzi daie questa è una visuale dall'alto della mappa si vedono benissimo delle impronte si è capito che il picco è crollato ragazzi che cosa è successo secondo voi di chi sono quelle impronte porca misere io non lo so ma quindi ciao ciao le bande e bando alle ciance restiamo subito subito ragazzi a tema picco polare ovviamente la modifica più importante per quanto riguarda il gameplay di questi giorni abbiamo delle immagini prese con il drone qua lo vediamo dal lato mentre qua invece lo vediamo dalla parte delle due torrette e come vedete ampia visuale fino ad arrivare a neo inclinata non c'è più il castello che ostruiva la vista e insieme al castello ragazzi guardate sono apparse delle impronte giganti di qualcosa probabilmente della bestia che c'era che ci guardava con quell'occhio gigante ragazzi vi ricordo che l'occhio era chiamato nei file di gioco left high quindi occhio sinistro era molto probabile che ci fosse anche un occhio destro e che quindi formasse un qualsivoglia mostro che ancora noi non conosciamo alcuni dicono addirittura possa essere il famoso leviatano gigante e non sarebbe sbagliato perché non volevo dirvelo in questo video ma oramai mi sono allacciato al discorso cominciano ad esserci delle cose molto interessanti per quanto riguarda il tema season 10 ragazzi qua si parla di non so se di alieni ragazzi di alieni tanta roba non voglio adesso dilungarmi perché ne parleremo fra qualche giorno con calma non appena avrò tutto il materiale disponibile ma il leviatano gigante già era stato spoilerato un bel po' di tempo fa ed ecco qua ragazzi invece la visuale questa è la parte dove c'era l'occhio gigante non c'è più la grotta non c'è più il castello non c'è più tutto il ghiacciaio che sporgeva prepotentemente sul lago ghiacciato tra le altre cose hanno aggiunto nei file di gioco nelle stringhe di codice due nuove stringhe chiamate greasy groove e per chi non lo sapesse greasy groove è boschetto bisunto molto probabile il ritorno di boschetto secondo me nella prossima season adesso diamogli qualche settimana per stabilizzare le cose secondo me lo rivediamo nella prossima season ed ecco qua invece la visuale dall'alto proprio dove doveva esserci il castello adesso c'è uno strapiombo attenzione che ci trovate qualche cesti in giro ragazzi quindi molto interessante anche da visitare ma andiamo avanti ed eccolo qua ragazzi l'immagine del nuovo lanciagranate nettamente più compatto di quello che siamo abituati a vedere molto più futuristica come immagine molto più all'avanguardia passatemi il termine vi posso garantire che questo lanciagranate arriverà in game oltre per questa immagine anche perché abbiamo già delle statistiche sappiamo che sarà in due versioni epica e leggendaria sappiamo che il tempo di ricarica delle versioni è 3 secondi e 2 secondi 84 e il danno è di 67 e 70 quel numero 2 lì ragazzi io non so se sia il mag size quindi la capienza del caricatore forse due colpi alla volta potrebbe anche starci ragazzi e per ultimo adesso non sappiamo altro anche perché non sappiamo se arriverà nel battle royale o in save the world però potrebbe essere facilmente associabile al battle royale e questo invece è proprio il mirino quando lo utilizzeremo insomma in game ma andiamo avanti ragazzi e sappiamo tutti che all'inizio della quando sono stati rimessi online i server il problema che c'era con punto intermedio lo sappiamo tutti cioè non è stata disponibile per un paio d'ore perché? allora innanzitutto perché hanno fatto una modifica allo stile di punto intermedio o meglio hanno aggiunto un nuovo stile e poi perché chi l'ha usata per la prima partita prima che fosse blindata era invisibile quindi ragazzi lol andavi in giro e non ti vedeva nessuno ma eccolo qua invece ragazzi nuovo stile break point punto intermedio appunto tradotto in inglese riportato in italiano come vedete molto particolare come skin se devo essere sincero mi piace di più nella versione classica ma guardate abbiamo anche il backpack e soprattutto ci sono delle sfide incluse queste ragazzi sono quattro sfide trovate nella cartella relativa a break point quindi bisognerà capire innanzitutto se la skin sarà acquistabile a cash perché se fosse acquistabile avrebbe senso che ci vennero che ci venissero regalati dei V-Bucks quindi 1000 V-Bucks magari la skin ti costa 9,99 e ti ridanno 1000 V-Bucks perché no ci sta alla fine non la paghi niente e invece se fossero gratis come sfide sarebbe OP perché vabbè ci regalerebbero dei V-Bucks staremo a vedere non appena saprò qualcosa lo saprete anche voi e chiudo ragazzi come vi avevo anticipato con la nuova modalità zombie non riesco a farvi vedere il nuovo pack non preoccupatevi ve lo farò vedere domani sono ancora delle teorie questa ragazzi è questo è il background della notizia che apparirà nella sezione notizie che annuncerà la nuova LTM degli zombie abbiamo anche l'immagine del ciccionazzo che già conosciamo benissimo con gli zombie e abbiamo anche le sfide ragazzi come vedete oltre a una bella valanga di punti esperienza ci verranno regalati il wallpaper e la copertura per le armi per adesso vi posso dire che la modalità è particolare perché il numero massimo di giocatori sarà di 4 quindi non ci sarà più tutto il casino della lobby più il casino degli zombie ma dovrebbe essere una cosa molto più limitata e controllata beh ragazzi per adesso questa era un'infarinata generale di un po' di roba nuova che fra poco arriverà vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live nel tardo pomeriggio ciao ciao